Applausi 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 Quando ci fu un attentato alle due torri genelle io mi trovavo in uno studio di registrazione e con me c'era Marian Serba Io ho pensato di dedicare un canto alle vittime perché non sapevo fare e non poterò fare altro Ente di ci Applausi 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti